Musica 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 Iniziamo la posizione del Cristo morto Oggi è il venerdì santo Il giorno della morte di Gesù Alla conclusione del venerdì santo Vogliamo rivivere la passione sofferta da Cristo A tutti chiediamo Con tanta gentilezza E speriamo di essere corrisposti Un grande silenzio Nessuno dovrebbe disturbare il silenzio della processione O si prega O si medica E si sta in silenzio Grazie La processione Si svolge lungo il perimetro delle mura cittadine Lungo il percorso Alcuni quadri viventi Sottolineeranno i momenti più significativi E più importanti Della passione di Gesù La processione è aperta delle marcorelle Che con il loro strighio Ci ricordano l'inizio e il passaggio della processione Che si mettono al raccoglimento e alla preghiera Grazie a tutti Grazie a tutti Allora avanti Avanti le marcorelle Grazie a tutti 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 Dietro la cavalleria Barabba L'uomo graziato da Pilato Al posto di Gesù Grazie a tutti Barabba Dietro Barabba Gesù con la croce sulle spalle Scortato dai soldati Che saranno cucitissi Uno a destra E l'altro a sinistra di Gesù Uno che si commette E diventa buono L'altro purtroppo Non si commette Segue la turba Il popolo Che occheggia Curioso Contento Piangente Secondo i sentimenti Dell'animo E le convenzioni Che si porta dentro Arriva l'aristocrazia Aristocrazia La corte I rappresentanti Legati I rappresentanti Lo scriva Che porta la legge Sfilano adesso I simboli L'angelo L'angelo del decenzero Che rega in mano Un calice A significare Il dolore Dovuto sopportare Da Gesù Un soldato Dette lo schiaffo A Gesù Che porta su un massoio Una mano Che regoge Su per tre volte Si pentì Al canto del gallo Che porta in mano Il gallo Seguono altri simboli Della passione La colonna Della crocifissione La scala Per salire Sulla croce La curva La curva Padre del Cristo morto La madonna Le penitenti Con lei E dietro Evotamente Chi vuole seguire La processione Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti